E' ormai un anno che si registrano forti disagi alla circolazione nei pressi di Fagnano Castello, lungo la strada statale 283 delle Terme, sempre molto trafficata, e che, soprattutto in questo periodo estivo, viene percorsa dai residenti e dai turisti, essendo anche una valida alternativa alla statale 107, che collega direttamente Cosenza con il litorale tirrenico. Questa strada, che oggi presenta una deviazione di qualche chilometro, viene percorsa anche da camion di grandi dimensioni, che spesso rimangono bloccati, causando il caos, e già ci sono stati segnalati casi di ambulanze rimaste bloccate nel traffico. L'ANAS, che gestisce l'arteria viaria, ha già comunicato che ci sono seri motivi di sicurezza alla base della creazione della deviazione, visto che, si legge in una nota, il viadotto Valle di Leto presenta degli spostamenti che hanno prodotto uno scorrimento degli impalcati sugli appoggi. La questione non è dunque da sottovalutare, ma resta il grave disagio per chi deve percorrere questa strada. E allora ci si chiede, visti già tanti disagi che i calabresi e i turisti che si avventurano, e il caso di dire così, nella nostra terra già patiscono per i tanti cantieri autostradali, davvero non si possono accelerare le operazioni per il ripristino almeno di questa arteria che collega Ionio e Tirreno? Quanto ancora si dovrà attendere? Il timore che vorremmo non si tramutasse in certezza e che passerà ancora un'altra intera estate prima della riapertura al traffico anche di questa strada.